... Dalavalle partita sparata e a questo punto ha già un grossissimo vantaggio su tuttequante vediamo la sua virata ai 50 metri tre volte però arrivata sull'inerzia 32 e 73 virata fuori di Manuela Dalavalle che vedremo si riuscirà a tenere fino in fondo questa mattina abbiamo detto che hanno dato grande facilità una grosse vantaggio più di una lucchezza ai 75 metri però di solito è un calvario per lei la fase conclusiva però adesso comunque sembra ancora avviata, bene anche se sta pian piano crollando, sta uscendo la Lamperea attenzione la Lamperea a questo punto appare ancora lontana ma non lo è tanto Dalla Valle però va a vincere la seconda medaglia d'oro per l'Italia, Dalla Valle 1.10.54 ha avuto due grosse...